190 piantine di marijuana in fase di germogliatura coltivate in un deposito garage in locazione all'interno di un piccolo complesso condominiale e quanto hanno trovato i militari del norma della compagnia dei carabinieri di Salerno fra Baronissi e Pellezzano, arrestando in flagranza di reato un cinquantenne salernitano M.T. le iniziali. La perquisizione all'interno del garage nella disponibilità dell'uomo ha portato alla scoperta di quattro stanze adibite al laboratorio per la coltivazione, l'essiccazione e il confezionamento della marijuana con 190 piantine in fase di fioritura. Le fasi successive dell'attività hanno fatto rinvenire oltre 2,7 kg di marijuana già confezionata sotto vuoto e pronta per lo spaccio, oltre a due cassette di sicurezza. Queste ultime hanno rivelato il contenuto di 300.000 euro in vari tagli, tutti suddivisi e confezionati sotto vuoto, probabile provento dell'attività di spaccio. L'arresto si incardina nell'attività antidroga della Compagnia dei Carabinieri di Salerno mirate al monitoraggio della situazione attuale a seguito delle recenti imponenti operazioni dell'arma nel contrasto al traffico degli stupefacenti. L'attività informativa dei carabinieri ha spostato questa volta l'attenzione su un soggetto domiciliato a Baronissi che avrebbe avuto in corso un'attività di coltivazione di marijuana, motivo per cui è stato dato corso ad una serie di riscontri informativi e servizi di osservazione ed appostamento. Gli elementi raccolti hanno quindi spinto i carabinieri a procedere ad una perquisizione di iniziativa presso l'abitazione dell'uomo, all'interno della quale è emersa l'evidenza di un deposito garage a pochi chilometri all'interno di un piccolo complesso condominiale. L'uomo, 50enne, è stato tratto in arresto con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e coltivazione di droga finendo associato alla casa circondariale di Salerno.